Anche in zona rossa, conferimenti, amputazioni e gesti ignobili, quelli che hanno aperto il 2021 sono festeggiamenti con il solito grado di follia, reso ancora più evidente grazie all'utilizzo di smartphone per ritrarre e condividere momenti di grande stupidità. Come altro definire se no il gesto messo in pratica da tre persone apparentemente adulte che a Taranto hanno deciso di far volare da un balcone addirittura un frigorifero per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Se questi sono gli adulti cosa possono imparare i più giovani? La risposta arriva sempre da Taranto con un altro video diventato virale. Un bambino ha in mano una pistola, apparentemente una scacciacani ma chissà, la punta verso la finestra aperta di una palazzina di fronte al balcone dal quale è intento a festeggiare l'arrivo del nuovo anno e dopo l'urlo di battaglia che richiama il presidente del consiglio Giuseppe Conte, che viene addirittura taggato nel video, ecco le esplosioni. Una, due, tre, fino a sei colpi esplosi con una pistola da un bambino. Un'immagine terrificante che spiega però i dati del bollettino dei festeggiamenti di Capodanno. Ad Altamura un minore ha riportato l'amputazione del mignolo della mano sinistra perché ha raccolto per strada un petardo inesploso. Accorato nella notte di Capodanno è rimasto ferito un uomo che per l'esplosione di un petardo lanciato da un balcone ha subito l'amputazione della mano sinistra. A Bari sono rimasti feriti due uomini da scoppi di petardi sui balconi delle abitazioni riportando ferite agli occhi, orecchie e gambe con prognosi inferiori ai venti giorni. È stato necessario sotturare il volto con nove punti ad un diciannovenne di Trani per l'esplosione di un petardo durante i festeggiamenti della notte di San Silvestro. 5 in totale i feriti di quest'anno tra le province di Bariebat esattamente come l'anno scorso. Insomma anche con gli ospedali sotto pressione a causa della pandemia non ci siamo risparmiati di aggiungere attività per i medici nella notte di Capodanno. Altrettanto vale per i vigili del fuoco chiamati a 24 interventi in tutta la Puglia, qui una sensibile diminuzione rispetto ai 61 interventi dell'anno scorso. Automobili incendiate, autovelox fatti esplodere come accaduto a Palombaio e se qualcuno ha pensato di preferire ai botti il lancio di lanterne e palloncini non ha fatto un gran favore all'ambiente. Come sottolinea l'associazione ambientalista andriese triplace, le vostre care lanterne non restano in cielo.